E allora, ciao! Vorrei fare gli auguri di Buon Natale a mio marito, ringraziarlo per la spontaneità con cui mi ha comprato il regalo e soprattutto ricordargli che anche quest'anno, per l'ennesimo anno, lui non riceverà nulla per cui, tranne che è il mio amore ovviamente, quello c'è sempre, quindi Buon Natale amore! Ciao Marta e Matteo, sorpresa! La mamma su internet per farvi gli auguri di Buon Natale, un bacione speriamo che vada tutto bene e che Babbo Natale sia stato generoso con voi, siete stati bravi, baci baci, auguri! Ciao a tutti, volevamo fare gli auguri a tutti quelli che ci conoscono e soprattutto a Claudio, Sofia? A Sofia? E poi? A Daniele Chillè! Volevo fare un caloroso augurio di Buon Natale ai miei colleghi del Cipriti di Voghera Ancora auguri ragazzi! Auguri a tutti i nostri clienti e ai nostri amici! Ciao Lilli, ciao Giacomo, auguri di Buon Natale, non pensavate che potevo fare questa cosa, eh? Ciao! Da Voghera anche oggi la consulta per i problemi sociali è presente in Piazza del Duomo grazie all'invito dell'ASCOM e dell'ACOL e dell'assessorato alla Fiere Mercati assieme a Lazzaretti e al Comune di Voghera insieme come consulta per i problemi sociali auguriamo a Voghera e a tutti buone feste, buon Natale e soprattutto che il 2016 inizi anche in nome della solidarietà. Buon Natale a tutti! Mi chiamo Riccardo, un saluto e volevo farvi gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che mi stanno guardando e soprattutto alla mia famiglia Giulia, Samira, la mia nonna Salvatora, mia zia Pasqualina che non sta tanto bene e a tutta la comunità San Pietro che si trova a strada per il Torbido, Comune di Voghera. Io abito a Pavia e un saluto a tutta Pavia. Tanti auguri di Buon Natale ad Andrea e ai tizi. Ti auguri a tutti i sognatori Buon Natale da Gabriella e Eros. Ciao Brenda, scusa se ho preferito fare un messaggio di auguri in questo modo perché sei una ragazza splendida, veramente umanamente parlando hai veramente la vera sensibilità per un Natale che ti auguro felice e sereno con tutta la tua famiglia e insieme a noi. Un bacione. Auguri a Sofia, mia migliore amica perché è troppo bella. Ciao. Facciamo gli auguri agli amici di Novara, a quelli che è in Austria, a tutti i sardi e agli amici di Monza e basta. Buon Natale a tutti, auguri. Ciak. Io auguro Buon Natale al mio cane, Raffaele. Sta quasi sei anni. Sta nello scatolone. Prego. Prego. Non badate al disordine. Eccolo qua. Che brutto è questo. Tanti auguri. Ciao ciao. Ciao Sere, guarda cosa mi tocca fare per festeggiare il Natale. Comunque assolutamente dobbiamo festeggiare il tuo 30 elode in piazza il 24 dicembre, all'ora 24 e ti aspetto a bere. E se non prendi 30 elode sappi che berrai almeno tre bicchieri. Tanti tanti auguri amica. Auguri a tutti i bambini e le bambine perché sono il futuro. Buon Natale. Buongiorno a tutti. Sono Maria Ferla. Volevo fare tanti auguri a tutti. Di buon Natale e di buon anno. Che sia un anno migliore per tutti. Ciao. Allora, vorrei augurare un buon Natale, soprattutto delle buone feste e un buon Capodanno. Perché immagino saremo insieme. A una persona molto speciale che si chiama Monica. E che si è laureata molto recentemente. Proprio qualche giorno fa. E che per tutti i trambusti, gira, vai, viaggia, studia, butta sangue, tutt'altro, mangia a malapena. Siamo riusciti a cavarcela e alla fine lei si è laureata, è stata molto contenta. Eravamo tutti felicissimi. E quindi vorrei augurarle delle buone feste, soprattutto delle feste pacifiche. Lei, come tutti gli altri ragazzi che si sono laureati adesso e che immagino stiano patendo finalmente l'esigenza, la voglia, il divertimento del Natale e della spensieratezza. Perciò ancora buon Natale Monica. Buon Natale a tutti i laureati e neolaureandi. Buone feste e buon Capodanno. Ciao Beatrice, sono ancora qui in giro, volevo dirti che ti voglio bene e che sono felice di passare, questa parte che è una cosa orrenda in testa, però sono felice di passare questo Natale ancora con te e niente, ti auguro tanti giorni felici e niente, ti voglio bene. Buon Natale. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, gentlemen e damen, faccio gli auguri di Natale a tutta l'associazione di Asperta che ogni anno è qui con noi da rietarci di Natale e a cercare idee innovative per tutti i regalini di Natale, sempre tutto fatto assigionalmente, con impegno e con graziosità, che non esiste però va bene così. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buon Natale, nella speranza che l'anno prossimo sia meglio di questo. Buon Natale. Buon Natale.